ciao a tutti ragazzi oggi voglio far vedere quello che è successo in questa estrazione del 10 gennaio allora ho visto un ambo secco qui su nazionale il 4 e l'11 dal mio programma 12 ambi secchi di john che è un programma dentro al file 5 metodi lotto john che vi lascerò link descrizione sotto i video chi volesse acquistarlo può cliccare sotto sotto al video e lì ci sono tutti i link dei miei programmi allora lambo secco 4 e 11 su nazionale eccolo qui lo vedo sono 12 ambi secchi da giocare 4 e 11 preso lambo secco al primo colpo elaborazione cioè si fa l'elaborazione al primo colpo si sceglie una ruota ovviamente perché una non può giocare tutte capisco quindi niente stasera 4 e 11 preso nel 12 ambi secchi di john qui per nazionale e adesso voglio vedere gli altri che ho già visto un po prima ma mi sa che no qualcosa uscito ecco qui ad esempio nelle quaterne anche 4 e 11 qual 4 e qui l'11 un ambo qui in quartina poi vediamo un attimo nelle terni è sempre buono come dico sempre lambo perché su terzina lambo con un euro paga 78 euro rotti mi sembra quindi 4 e 11 qui è buono e poi vediamo un attimo monster dog anche qui però qui su sei numeri 4 e 11 però preso niente che dire gli altri programmi mi sembra del dice l'otto ha dato poco mi sembra due numeri su cinque e gli altri mi sembra due o uno mi ricordo come ho dato poco e niente per adesso è tutto ci sentiamo al prossimo video mi raccomando cliccate su like se volete iscrivetevi fate un po quello che volete poi c'è anche la mia pagina instagram ci sono i miei quadri john art gallery gianfrancosini sono io e ci sono i miei dipinti c'è tutto poi anche nelle mie playlist di youtube c'è l'arte c'è della musica strumentale che ho fatto io e via dicendo va bene ragazzi ci sentiamo al prossimo video vi saluto vi ringrazio iscrivetevi sempre di più cliccate su like se volete e ci sentiamo al prossimo video ciao a tutti grazie a tutti ciao